Entra nel mondo del gruppo Carmeli, il partner di fiducia per la tua professione. Offriamo soluzioni per le tue ambizioni con i veicoli commerciali Renault e Nissan, con una portata massima da 35 a 45 quintali. Dai cassonati ai furgonati, la nostra gamma è completa. Siamo centro Renault Plus e Nissan Business Center. Gestisci un furgone o una flotta? I nostri consulenti esperti hanno la soluzione perfetta per te. Ti guideranno nella scelta del veicolo e del finanziamento ideale per il tuo business. Scegli l'efficienza, scegli Gruppo Carmeli.